Lo sappiamo, i cattivi Disney vengono sempre uccisi in modi assolutamente brutali, ma questo non è nulla rispetto a ciò che avviene nelle fiabe che hanno ispirato le loro storie. Prendete la regina cattiva di Biancaneve ad esempio, che cerca di spingere un masso giù per il dirupo per schiacciare così i nani che la inseguono. A quanto pare si diverte così tanto mentre lo fa, che non riesce a smettere di ridere come una pazza. E questo dà Zeus il perfetto alibi per intervenire. Colpisce infatti la scogliera dove si trova, facendola precipitare verso la morte, seguita dal masso che avrebbe dovuto completare l'opera, nel caso in cui non fosse stato abbastanza. E' abbastanza terrificante, ma è assolutamente indolore rispetto alla storia originale. Nella versione di Fratelli Grimm, la regina cattiva partecipa effettivamente al matrimonio del principe. Non sa ancora che è proprio Biancaneve che lui sta sposando. Chi in cui arriva viene catturata dalle guardie che le legano ai piedi delle scarpe di ferro roventi. E poi di fronte a tutti gli invitati al matrimonio. Le fu ordinato di ballare con le suddette scarpe, in quanto il suo corpo non riuscì più a sopportare il dolore e morì.